che cosa è veramente successo in kazakhistan nei primi giorni di gennaio di quest'anno la rivolta che è scoppiata nell'occidente di questo enorme paese e continente ricordiamo che è grande nove volte l'italia anche se con una popolazione di circa un terzo meno di 19 milioni di abitanti quella rivolta aveva certamente delle motivazioni di carattere locale interno in particolare la sofferenza delle regioni produttrici di materie prime esportate dal kazakhistan in notevole quantità e che non fluiscono come non fluivano prima delle enormi rendite energetiche che sono normalmente appannaggio dei capi clan kazaki e in particolare anche dei loro leader politici e questa è una dimensione effettiva vera di partenza ma che non spiega tutto e che soprattutto non spiega perché tutte le maggiori potenze asiatiche e mondiali hanno voluto dire la loro su questa crisi perché il kazakhistan come mostra una qualsiasi cartina che ci collochi spazialmente questa ex repubblica sovietica si trova all'incrocio tra la cina e la russia e quindi può essere interpretato mettendoci dal punto di vista americano come un importante cuneo per dividere e mettere in difficoltà questa strana coppia sino russa con cui l'america si confronta ormai da qualche anno sulla radice locale quindi si sono certamente innestate delle influenze esterne qui naturalmente le teorie del complotto galoppano ma certamente all'america non è dispiaciuto che alla periferia russa e in quella che la cina considera la cinque di trasmissione delle vie della seta terrestri fra appunto la cina stessa l'asia e il resto del mondo sia emersa una instabilità prima latente ma oggi visibile e questo ha evidentemente indotto la russia a un intervento immediato circa 3000 soldati russi sono intervenuti peraltro non in prima linea non sulle piazze negli scontri ma a supporto del governo del presidente tokayev per stroncare rapidamente una rivolta in cui i russi hanno letto l'intenzione non solamente americana di provocare instabilità alla frontiera dell'impero russo ma anche il rischio di una penetrazione jihadista nel ventre molle della russia e quindi un pericolo per la stessa stabilità complessiva della federazione russa da parte cinese un'analoga inquietudine che deriva anche dalla prossimità del kazakhistan alla regione più critica e geopoliticamente instabile della repubblica popolare cioè Xinjiang esiste una notevole affinità etnica tra i kazaki e gli uiguri popolazioni di ceppo turchesco e di religione musulmana e quindi la possibilità di una connessione tra i rivoltosi kazaki e le popolazioni di ceppo uiguro del Xinjiang poteva essere vista ed è stata vista da Pechino come un problema molto serio così come quello che dicevo prima una crisi del sistema delle vie della seta terrestri che non a caso furono annunciate dal presidente Xi Jinping proprio in kazakhistan quando il presidente cinese volle presentare questo enorme progetto forse eccessivamente ambizioso geopolitico cinese mascherato da operazione economica scegliendo appunto il kazakhistan come fulcro alcune notazioni innanzitutto per quanto riguarda le questioni interne poi passiamo alla prospettiva più ampia la popolazione kazakh è storicamente di ceppo nomadico divisa in diversi clan o tribù che poi anche nel periodo sovietico hanno dato luogo a vere e proprie aggregazioni politico economiche in particolare il padre della patria il padre della nazione l'ormai più che attuagenario presidente nazar baiev che ha governato questo paese per 30 anni poi ha avuto un ruolo comunque importante come capo del consiglio di sicurezza nazionale è in realtà il principale sconfitto per quel che si può vedere oggi della partita nella quale invece il presidente tokayev figura fino a ieri piuttosto pallida è emerso come un leader piuttosto deciso e deciso a stroncare la rivolta con metodi anche abbastanza ruvidi nel momento in cui ha capito che la rivolta nel sud del paese in particolare ad almati minacciava la stabilità del regime dobbiamo anche ricordare che la maggioranza della popolazione del kazakhistan è appunto kazaka con vari ceppi e vari innesti ma esiste una robusta minoranza russa in particolare nel nord del paese cioè in prossimità di una frontiera quella tra kazakhistan e federazione russa che più porosa nell'ambiente steppico che la caratterizza non si può immaginare ma se allarghiamo la prospettiva che ci mettiamo al posto di putin che cosa significa l'instabilità del kazakhistan significa un prolungamento dell'arco di crisi che va dal baltico via ucraina passando anche per la bielorussia fino al caucaso e che significa mettere in questione le frontiere della russia e quell'area di cuscinetto che la russia cerca di interporre fra sé e i suoi nemici effettivi o potenziali noi sappiamo ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne della crisi in ucraina ma vorrei anche ricordare che latente ma effettivo esiste un problema anche con la cina se oggi soprattutto per merito degli americani cinesi e russi sono apparentemente allineati la diffidenza reciproca è sempre molto forte a radici storiche culturali molto profonde insomma i russi della cina non si fidano affatto e che ci sia una crisi nel territorio che divide la russia dalla cina è evidentemente un problema molto serio dal punto di vista di putin il problema principale è quello di impedire che si ripeta a mosca una delle varie rivoluzioni colorate alcune di successo altro meno che l'occidente ma più specificamente l'america e in seconda linea ma non troppo seconda anche in inghilterra hanno promosso in diversi paesi di importanza critica per la federazione russa per quanto riguarda la frontiera occidentale che poi la frontiera da cui storicamente la russia ha subito invasioni e aggressioni nei secoli passati la situazione negli ultimi decenni quindi dalla fine dell'unione sovietica è diventata sempre più critica insomma la nato si è allargata in profondità anche a territori ex sovietici ma soprattutto i paesi in qualche modo cuscinetto tra la federazione russa e la nato sono in crisi l'ucraina è contestata la bielorussia contestata il kazakhistan se entrasse in crisi aprirebbe un fronte effettivamente troppo vasto per essere considerato gestibile da mosca quindi l'intervento di circa 3 mila soldati russi in kazakhistan nel giro di un paio di giorni soldati russi che stanno a quanto pare rientrando a casa e che sono intervenuti sulla base di una richiesta formale del governo kazakh all'organizzazione del cst o che è una specie di nato regionale questo intervento è stato breve rapido più simbolico che effettivo perché sono stati veramente pochi gli effettivi russi e poco impiegati poi anche effettivamente sul terreno ma che ha segnalato il sentimento di precarietà e di allarme che questo nuovo focolaio emerso alla frontiera enorme meridionale della russia mette in evidenza fra l'altro in questo modo reagendo così speditivamente e anche con una certa efficacia senza spendere in realtà troppe energie militari e senza esporsi troppo segnala un principio di fondo e cioè che la russia non è semplicemente la federazione russa per punti né per molti russi ma è il cuore di quello che i russi chiamano il ruski mir cioè il mondo russo detta in maniera sbrigativa ma credo non troppo semplificata la russia è dove ci sono i russi e siccome i russi sono a milioni ormai dopo la fine dell'unione sovietica sparsi nell'ex impero sovietico e in particolare ve ne sono molti anche in kanzakistan come dicevo soprattutto a nord in prossimità della frontiera la russia non poteva non intervenire due altri aspetti importanti riguardano il ruolo economico ed energetico del kanzakistan si parla molto degli idrocarburi noi italiani via eni abbiamo una qualche esperienza che risale ormai agli anni 90 del secolo scorso ma non ci sono solo idrocarburi anzi probabilmente la risorsa più importante più strategica di cui il kanzakistan dispone è l'uranio di cui produce il 43 per cento del volume mondiale e quindi qualche modo la massima potenza produttrice di uranio al mondo sappiamo quanto importante sia e diventerà l'uranio specialmente al di là dell'aspetto militare se come pare nel mondo ma anche da noi in europa torneranno sempre più di moda le centrali nucleari e a quel punto il valore sul mercato dell'uranio kazako potrebbe diventare molto rilevante quindi questo è un aspetto per quanto riguarda le risorse strategiche e poi c'è un altro aspetto che riguarda dal punto di vista russo baikonur cioè il cosmodromo storico già attivo il tempo sovietico ma sempre oggi utilizzato dalla russia su cui la russia ha una concessione che teoricamente dovrebbe scadere nel 2050 e a quanto pare negli accordi segreti tra putin e tokayev c'è un prolungamento ad infinitum della possibilità russa di fruire di questo cosmodromo che cosa vuol dire di un porto che ti trasmette verso lo spazio e quindi ha un valore molto importante dal punto di vista strategico ricordo a questo proposito che il numero di limes oggi in circolazione quello sullo spazio appunto segnala l'importanza del controllo delle basi di lancio che dalla terra immettono i satelliti nello spazio e baikonur è uno dei principali porti mondiali uno dei principali spazioporti mondiali e quindi la possibilità per la russia di continuare a controllare baikonur che fisicamente geograficamente politicamente in kazakistan come una propria base equivale per fare un esempio alla possibilità di disporre di sebastopol in crimea come porto necessario per la marina russa e per la sua penetrazione nel mar nero e del mediterraneo